Qualche passo è stato compiuto ieri dopo otto ore nelle trattative al tavolo tecnico convocato alla prefettura di Sassari per concordare il prezzo del latte ovino. Si parte dalla base di 72 centesimi al litro come convenuto nell'ultimo incontro tra produttori e trasformatori a Cagliari con il Ministero per le politiche agricole dello scorso 21 febbraio. Le parti, si legge in una nota della prefettura di Sassari, hanno unanimamente condannato la grave aggressione avvenuta a Lula dove una cisterna è stata data alle fiamme e l'autista legato ad un albero da due individui a volto coperto. Il punto più importante raggiunto nelle trattative riguarda il prezzo del pecorino romano che secondo l'intesa non potrà essere venduto al di sotto dei 6 euro al chilogrammo. Si è anche parlato dei necessari interventi strutturali della filiera sugli esempi di formaggi dopo di Emila Romagna, Toscana e Lombardia e di una revisione in un'ottica di filiera dell'organismo regionale OILOS che unisce produttori, trasformatori e istituzioni pubbliche. Questi e altri punti come la revisione mensile dei prezzi sono stati considerati dalla Coldiretti come passi in avanti della trattativa. Intanto il presidente del centro studio agricoli Torepiana mette in evidenza una contraddizione nel recente decreto governativo che andrebbe rivisto per agevolare la produzione dei formaggi sardi DOP anche con il ricorso al fondo indigenti. Il decreto infatti stabilisce un contenuto di acqua nel pecorino romano DOP non superiore al 26 per cento mentre lo stesso formaggio ne contiene normalmente fra il 32 e il 36 per cento. Stesso discorso per le proteine il cui limite minimo non sarebbe raggiungibile dai nostri formaggi. Senza un pronto emendamento del governo affermatore Piana le misure del decreto potrebbero essere inutili o addirittura dannose per la produzione sarda.